oh mamma cioè raga io ho capito un cazzo cioè qui sembrava che facevi un sacco di visualizzazioni adesso non vedo più niente ma non vedo più niente io sono senza sigaretto oh zio cazzo hai una sigaretto oh cazzo fai io sei buono cazzo ho fatto l'allenamento ho preso un po' di roba del decathlon mi ferma la finanza oh ma lei è sottodoppio ma fatti i cazzi tuoi ma che cazzo vuoi ma l'ho comprato al decathlon cioè mi sto troppo divertendo hai capito sta andando in bici c'erano tre persone che non si spostavano a 50 metri due colpi di tosse e figa sono andati via oh mi hanno detto che tiktok è pieno di fighe no e non ho visto neanche una che mi guarda proprio niente no niente grazie grazie